Ambiente e web. E' questa la sfida lanciata dal sito ambienteeambienti.com, della quale si è discusso durante la tavola rotonda The Green Web, territorio e ambiente nell'informazione online, organizzata nella sede dell'Ordine dei giornalisti di Puglia. La riflessione sull'informazione e la diffusione del web, ha detto la Presidente dell'Ordine Paola Laforgia, è parte del nostro mestiere. Le tematiche ambientali, ha proseguito, hanno un vantaggio nell'utilizzazione di questo strumento rapido e democratico nella sua capacità di diffusione e di consentire a chiunque di accedere alle fonti. Il web sta imponendo una corsa. Il rischio dell'utilizzo del web per la Presidente è un accesso diretto che possa mettere il cittadino comune di fronte alle difficoltà di gestire l'informazione. Inoltre, il web presenta il grande problema della verifica delle fonti. Ciò che passa sul web non è sempre verificato e verificabile, però ha dalla sua la possibilità di una comunicazione più varia e immediata. Un modo per il Presidente dell'Associazione della Stampa Raffaele Lorusso per creare nuovi posti di lavoro. Il sito Ambiente e Ambienti, ad esempio, si avvale dalla collaborazione di numerosi giornalisti e a tutti riconosce compensi. Importante poi il tema dell'ambiente, come ha sottolineato l'assessore regionale Ramo Angela Barbanente, secondo la quale il paesaggio è inteso come ambiente di vita.